eccomi sappia arrosticciato come e a godersi un po' di spettacolo filmiamo l'ingresso via si filma l'ingresso ci scannerizzano ci scannerizzano la bestia lo zio ci scannerizza grazie zio ha visto? ha detto prego eccoci nel cima questo è il padiglione rosso quindi quello che ci interessa più di tutti e ci iniziamo a fare un giretto ti ricordi di me? un saluto speciale grazie a tutti grazie 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 sai qui si mangia un monte di gente c'è un monte di macchine fatte strane tipo questa c'ha una punta apposta per i pedoni ce li smezza i pedoni in mezzo di qua e in mezzo di là questa dice me la rubano sai che gli levo una ruota ah no scherzo per farvi dei freddi bada via i lavori bada via i lavori ce n'è di roba voglio a te voglio a te ora parte anche lui ha missilato e c'è la tottina offri dal merchandise ok sentiamo che pugliano siccome noi ci sta prendiamolo un raptor e facciamolo canso come giostra tanto e poi costi un raptor e c'è fino a dietro che posto di merda e faccio i Grazie per la visione!